Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video come avrete letto già dalla copertina e dal titolo oggi andremo a vedere tutti i codici relativi a tutti i fumetti di C per Fortunet praticamente per chi non lo sa stanno uscendo il 20 di aprile usciranno i fumetti in cui parleranno del punto zero per Batman e Fortunet quindi ci saranno sia dei personaggi appartamenti alla DC e dei personaggi appartamenti a Fortunet quindi ci saranno queste storie dove praticamente ci saranno questi personaggi e a ogni fumetto che ne sono tutti 6 e costeranno effettivamente 3 euro avremo la possibilità di avere un gadget quindi 6 gadget in tutto più 1 che poi andremo a parlarne quindi allora ho la lista di tutti quanti le possibili ricompense allora il primo è stato già scoperto che c'era anche la foto praticamente è la skin Halloween Rinata e questa già l'avevamo scoperta in uno dei miei video quindi andatelo a ritrovare il fumetto il secondo fumetto dicono che ci dovrebbe essere il dettapolano di Batman Zero Wing però poi effettivamente ieri è arrivata la notizia che molto probabilmente ci dovrebbe essere l'arpione di Batman praticamente questa skin infatti questa possibile infatti praticamente su uno dei fumetti spoilerati da Donald Mustard praticamente c'era questa foto infatti di Catman con la tuta tutta stracciata e si dice che sia una possibile skin infatti questa tesi ha valorato che abbiamo scoperto che c'è effettivamente un suo piccone che ve lo faccio vedere a schermo poi avevano pensato che quindi come è sesto quindi il 6 luglio in uscita ci dovrebbe essere la nuova skin di Batman con armatura e se prenderete tutti e sei i libri con tutti e sei i codici avrete a disposizione solo per chi li compra da tutti le Batman armatura punto zero quindi praticamente se li prendete tutti come vorrò fare io poi andremo ad analizzare ogni diciamo codice quindi rimanete sul canale vi ricordo di lasciare like e iscrivervi in modo tale che poi andremo a fare il gameplay di tutte le nuove skin o oggetti che verranno che verranno che verranno nei codici a parte che oggi è uscita la nuova emote lascia la porta aperta non ve lo faccio sentire perché se no mi danno il copyright comunque è una bella canzone poi andatela a sentire e io l'ho fatto anche un video sugli incarichi foglio e primavera per come prendere i picconi andatelo a vedere e detto questo ciao ragazzi ciao